ciao a tutti ed ora vediamo meglio tutte quelle che sono le novità in casa midland riguardanti il dual mic ad un anno dall'uscita del primo modello midland è uscita con un secondo modello totalmente wireless che mantiene tutte le caratteristiche del primo modello ma senza fili infatti lo si può connettere ai cb di nuova generazione la serie m e si può modulare senza fili ora vi mostrerò tutti gli accessori e i supporti per la serie dual mic per quanto riguarda il nuovo nato in casa midland il dual mic wireless abbiamo una comoda docking station dove posso alloggiarlo e automaticamente andrà in ricarica senza dover connettere il cavo usb abbiamo l'adesive mount che trovate all'interno della confezione di tutta la serie dual mic poi abbiamo il vent mount che potete connettere alle prese d'aria dei vostri mezzi e l'ultimo che è lo stand mount che potete connettere alla presa accendisigari per poi utilizzare la usb e caricare il vostro dual mic vi ricordo inoltre che svitando in senso anti orario l'aggancio che avete in dotazione potete connettere su ogni supporto la docking station per quanto riguarda il dual mic a cavo abbiamo la l dual che vi permette di tenerlo sempre in carica un saluto a tutti ed arrivederci al prossimo video tutorial grazie a tutti